Truffe online sempre più diffuse. È innegabile che la pandemia abbia portato con sé un aumento della criminalità informatica. Dalle mail agli sms, passando per i social network, il terreno di caccia dei truffatori è sempre più vasto e sono sempre il più le trappole in cui i consumatori rischiano di cadere quando navigano su internet, controllano la posta elettronica o i messaggi sullo smartphone. Negli ultimi tempi le segnalazioni hanno registrato un aumento vertiginoso, complice il boom delle vendite online. Bisogna fare attenzione ai messaggi che riceviamo, avverte Ivano Giacomelli, segretario nazionale di codici, anche quando vengono riportati marchi di notteaziende. Spesso, infatti, si tratta di imitazioni. La società citata è stranea alla comunicazione e serve solo per attirare l'attenzione del consumatore e spingerlo a cliccare un link o a fornire dati personali utili a far scattare la truffa. In questi casi è importante non fermarsi all'aspetto del messaggio, che per logo e grafica può sembrare originale, e controllare ad esempio il testo, la data o il mittente, perché un refuso o un errore possono aiutare a smascherare il raggiro. A darci utili consigli oggi è Davide Zanon, della stessa associazione dei consumatori. Davide, spesso la truffa è dietro l'angolo, ma come possiamo accorgerci di un eventuale raggiro? La regola principale è quella di fare attenzione a quello che ci viene proposto. L'affare d'oro, l'affare del secolo non esiste e soprattutto bisogna stare attenti alle comunicazioni insolite. Si possono ricevere sms, email, ma anche chiamate da parte del nostro istituto di credito che ci dice che c'è stato un tentativo di truffa, addirittura usano questi sistemi, per cui cercano di attrarre la nostra attenzione, creare anche un momento di panico per confonderci, per poi chiederci dei dati sensibili come l'ID o la password per entrare all'interno del nostro conto bancario, oppure per rubare i dati sensibili, che è una cosa purtroppo che spesso accade. Stanno aumentando anche le truffe online, come sui social network, ma in che modo avvengono nello specifico? Allora, purtroppo sui social network si vede nascere ultimamente un sacco di annunci, soprattutto con l'aumento del business nell'online, negli acquisti online, vendita di prodotti, anche qua l'affare d'oro a prezzi vantaggiosissimi. All'inizio magari il venditore si riesce a parlare col venditore che si dimostra disponibile, che risponde ai messaggi, ma una volta che poi incassa il denaro, chissà perché, sparisce. A quel punto iniziano le peripezie, perché magari il venditore è all'estero, c'è chi segnala di aver ricevuto un prodotto qualitativamente peggiore di quello ordinato, oppure totalmente diverso, e poi ci sono le consegne mai avvenute. Bisogna verificare sempre bene l'attendibilità del venditore, ha precisato Zanon, e affidarsi solo ai cannali ufficiali e più conosciuti. Quello che mi preme sottolineare è ricordare che si ha il diritto alla verifica. Non abbiate fretta, ricevete un messaggio, ricevete una chiamata, una mail. Voi avete tutto il diritto di chiamare il vostro istituto bancario con i numeri che avete voi, non quelli segnati sulla mail, perché ovviamente essendo una truffa potrebbero mettere dei numeri a cui risponde il truffatore, e verificare che quello che vi stanno dicendo è vero. Chiamo la banca, mi è arrivato questo messaggio, è vero che mi stanno accedendo al conto, è vero cosa devo fare, e lì vedrai che poi si smascherà il truffatore. E chi subisce una truffa, a chi può rivolgersi? Innanzitutto sarebbe bene fare una segnalazione alla polizia postale. L'associazione Codici ha aperto uno sportello che appunto aiuta chi dovesse essere vittima di truffe online a cercare di fare tutti quei passaggi per provare a avere giustizia e riavere il mal tolto. Quindi anche sul sito internet possono riuscire a reperire tutte le informazioni del caso? Allora la via più facile è la mail che è segreteria.sportello.org oppure il numero telefonico nazionale che è lo 06 55 71 996. Un servizio che viene offerto in modo gratuito? Sì, è un servizio gratuito per i nostri tesserati e appunto rispondiamo nel giro di una settimana massimo.